Ieri pomeriggio, mercoledì 28 gennaio 2015, proprio mentre su Canale 5 andava in onda il capitolo conclusivo del percorso di Jonas a Uomini e Donne, per chi se lo fosse perso l'attore spagnolo ha scelto Rama Lila, negli studi di Maria De Filippi veniva registrata la scelta di Teresa Cilia. C'è davvero tantissimo da raccontare, in questa sede sintetizziamo gli avvenimenti principali, quelli che proprio non potete perdere. Nel pomeriggio approfondiremo i vari temi che la registrazione ci ha lasciato in eredità. Ecco le anticipazioni. Si parte con Andrea Cerioli. Come avevamo rimarcato non più tardi di una settimana fa, la sua avventura nel People Show di Canale 5 si è rivelata assai deludente ed il suo epilogo lo è stato altrettanto. Se fino a questo momento non eravate riusciti ad intuire una preferenza del tronista, tranquilli, il problema non era il vostro. È Andrea ad aver dimostrato di essere un ragazzo con le idee un tantino confuse e nella registrazione di ieri lui stesso si è dovuto arrendere ai suoi dubbi, ammettendo di non provare nulla di così importante per Sharon e per Valentina da convincerlo ad una scelta. Le due corteggiatrici ci sono rimaste molto male ma forse se lo aspettavano. Capitolo Teresa Ciglia. La giovane siciliana invece le idee chiare le ha sempre avute e con la decisione di ieri lo ha dimostrato. Teresa come da pronostico ha scelto Salvatore e lui ha risposto con un sì. Esito non del tutto scontato se pensate che il ragazzo ha aspettato l'ultima esterna per concedersi alla sua tronista. Non siate però troppo dispiaciute o dispiaciuti per Fabio perché la delusione per il giovane spagnolo è durata la manciata di un minuto. Il tempo di uscire ed essere raggiunto dietro le quinte da Maria De Filippi. La conduttrice gli ha offerto il trono. Lui e una ragazza bolognese di 21 anni di nome Valentina sono i nuovi tronisti.